Allora, buongiorno a tutti, io sono Mari Chiara Sole e sono qui con Fabio Bagliocco per presentarvi il nostro progetto che è stato appunto chiamato Ispirazione. Prima di entrare nel dettaglio delle singole fasi del progetto ci vorremmo soffermare brevemente sul nostro servizio, noi facciamo parte del DigiSina e è necessario fare questa breve premessa per capire come siamo riusciti a ideare e su quali basi si è costruito il progetto Ispirazione grazie alle competenze tecniche che sono presenti all'interno del DigiSina. Quindi brevemente vi dico che come è noto sicuramente ai colleghi Ispra, all'inizio del giornale 2017 è nato il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente e questo sistema fonda insieme fondamentalmente delle singole componenti del preesistente sistema e svolge tutta una serie di attività di ispezione, di monitoraggio e di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento ma anche di supporto per esempio tecnico-scientifico per quanto riguarda le attività di altri enti e di fatto l'SNPA raccoglie, organizza e diffonde i dati ambientali. Il Sina, ossia il Sistema Informativo Nazionale Ambientale, rientra proprio nell'NSPA e insieme ai punti focali regionali e al Sistema Informativo Regionale Ambientale gestisce la rete Sinanet, che era quella rete grande di cui vi ha parlato inizialmente il nostro direttore. Quindi all'interno del Sina, del nostro servizio, vi è appunto la gestione e anche la creazione dei database ambientali degli strumenti GIS e del digital mapping ed è proprio sulla base di queste competenze che è stato ideato e strutturato il progetto Ispirazione. Quindi adesso entriamo più nel dettaglio di quella che è la nostra idea e come vi dicevo, proprio in forza delle materie e delle competenze all'interno del DigiSina il nostro obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti ad approfondire queste tematiche e anche ad imparare ad utilizzare strumenti GIS. L'obiettivo è sicuramente quello di sensibilizzare i ragazzi ed educarli anche alla sostenibilità e a tutte le tematiche ambientali, non solo legate comunque al paesaggio ma anche agli aspetti culturali attraverso l'utilizzo del coding dei sistemi informativi geografici. Quindi alla fine del processo l'obiettivo sicuramente è quello di permettere ai ragazzi di acquisire delle competenze sicuramente teoriche ma anche tecniche e pratiche per quanto riguarda l'ambito progettuale GIS. Il programma è quindi stato pensato in questo modo, ossia di una prima fase più teorica chiaramente per darvi le basi per entrare poi in una fase invece più strettamente pratica. e quindi inizieremo con chiaramente l'introduzione del ruolo di ISPRE e gli strumenti che ha a disposizione l'istituto proprio per le rileviazioni ambientali. Vi sarà spiegato anche come funziona la geolocalizzazione e gli strumenti GIS per la raccolta delle informazioni. In una fase successiva invece entreremo in azione perché vogliamo che il progetto sia anche fattivo e quindi ci sarà una raccolta dei dati, l'analisi dei dati che vengono raccolti sul territorio, vi sarà spiegato il sistema e lo sviluppo di raccolta, quindi di condivisione dei dati anche attraverso la pubblicazione web e le social app. E infine vi sarà notato anche un'introduzione quantomeno sicuramente alle competenze per utilizzare poi ciò che è stato imparato anche per altre matrici ambientali che vengono gestite da ISPRE. Il nostro percorso insieme quindi l'abbiamo pensato così, vorremmo partire da una mappa dell'abbate di Dolfino Venuti che risale al 1763, che è una mappa di Roma all'interno delle mura aureliane ed è una mappa che quest'abbate aveva disegnato, andando a rilevare, indicando, adesso probabilmente qui non si vede benissimo, però sono indicati punti di interesse dal punto di vista storico-culturale ma anche paesaggistico. Quello che ci piacerebbe vedere è l'evoluzione di Roma, del territorio, rispetto a quello che è stato visto nel 1763 e quello che invece siamo in grado di fare oggi. Quindi rivisitare questa mappa in chiave moderna. Ovviamente per far questo in primo luogo è necessario acquisire i dati, quello che appunto vi dicevo prima, tramite il sistema GIS. E quindi la prima domanda che ci faremo è quali dati vogliamo acquisire? E abbiamo pensato, la nostra idea, poi ovviamente lo vedremo insieme, è quello di... Anche insieme, durante il percorso decideremo quali dati puoi acquisire, ovviamente... Esatto, sulla base anche ovviamente di quelle che sono le preferenze, le vostre inclinazioni, perché l'obiettivo è quello di andare ad analizzare il territorio sotto diversi punti di vista, sicuramente quello ambientale che a noi appunto ci sta particolarmente a cuore, ma anche per quanto riguarda altri aspetti, per esempio quello storico-artistico, quello urbanistico, infrastrutturale, perché l'obiettivo finale sarà quello poi di avere una visione ed insieme appunto del territorio romano, in questo caso. Nonché eventualmente anche altri aspetti legati per esempio alla contabilità ambientale, quindi andare a vedere quanto ci costa, per esempio utilizzare un determinato mezzo di trasporto rispetto invece a fare quel percorso a piedi o in bicicletta. Quindi di fatto andremo a vedere la trasformazione di Roma, come era prima e cosa vediamo oggi. I ragazzi saranno messi ovviamente nella posizione di poter utilizzare tool di sviluppo internet, Excel, Word, ma anche i sistemi geografici server, sicuramente le competenze di base per poter portare avanti il progetto. E poi andremo direttamente sul posto, in loco, tramite appunto un apposito strumento di acquisizione dei dati che sarà messo a vostra disposizione, poi magari Fabio vi spiegherà anche meglio. E attraverso questo strumento sarà possibile andare appunto in loco e rilevare gli aspetti che abbiamo deciso appunto di dover considerare. E infine quindi ci sarà la realizzazione vera e propria della mappa in chiave moderna e queste mappe saranno anche rese disponibili al pubblico sulla base appunto dei dati acquisiti e tramite gli strumenti social. Alla fine abbiamo pensato che ci piacerebbe presentare questo lavoro e soprattutto che i ragazzi stessi presentassero la propria parte proprio perché insieme, facendo poi un lavoro effettivamente in team e di gruppo, si arriverà al completamento del progetto che porterà ad analizzare tutti gli aspetti del territorio che abbiamo considerato. E ovviamente il nostro interesse è poi diffondere il più possibile l'iniziativa e le buone pratiche che saranno utilizzate. Io vi ringrazio, forse Fabio vuole dire qualcosa? No, fondamentalmente sarà proprio un lavoro di gruppo, insieme, ognuno sceglierà la propria tematica e utilizzeremo in modo pratico veramente gli strumenti e a partire dal semplice Excel fino alla pubblicazione su strumenti server. e questi dati poi verranno condivisi, analizzati e poi insieme durante il percorso vedremo come sviluppare al meglio la cosa. Tutto qua. Grazie.